buonasera dovremmo esserci buonasera a tutti quanti questa sera sono un po emozionato perché diciamo che l'argomento è un po epocale fra virgolette perché finalmente siamo riusciti sono riuscito assieme ai miei collaboratori a stillare quello che avevo promesso durante questo inverno stavamo lavorando alla stesura di un nuovo programma di prevenzione alle malattie fungine sappiamo tutti quanti che tra un po inizierà una stagione che è quella tardo primaverile e quella estiva che per chi ama un bel tappeto erboso rappresenta veramente uno dei momenti più critici uno dei momenti che genera più ansia uno dei momenti che mette in dubbio tutto il nostro lavoro perché chiaramente una patologia fungina è in grado soprattutto nella in un tappeto erboso denso fito uniforme di creare veramente tantissimi danni prima però infatti stavo stavo dando un'occhiata anche ad alcune cose che sono scritte nel libro di besprato che vedete qui al mio fianco utilizzo questi primi minuti un po per far trascorrere il tempo per dare a tutti quanti modo di collegarsi ho visto che siamo già numerosi in molte persone fatemi salutare e dare il benvenuto a francesco buongiori ciao francesco davide bergamin buonasera davide tutto ok tutto benissimo manuel narducci che mi fa già una domanda manuel verrò risponderti a breve diciamo dopo aver trattato un po il tema della serata buonasera nunzia buonasera massimo spada buonasera giuseppe angelo giulio pichè michele rosti simone ciao simone buonasera ben ritrovato ben ritornato anzi carmello scanella lorenzo rabaglia buonasera claudio capuano filippo anelli fabrizio torgo quanti siamo questa sera buonasera fabrizio torchio scusate la pronuncia sbagliata scusa la pronuncia sbagliata maurizio maurizio moretti e alessandro beniero buonasera manuel buonasera manuel zaccarin benvenuti a tutti quanti vi vedo belli pimpanti anch'io sono molto gasato questa sera perché quello che andiamo a presentare in esclusiva assoluta per voi infatti nella descrizione ciao roberto buonasera ciao francesco ciao nastri è un'anteprima assoluta non ho neanche messo nonostante sia pronto i links nella descrizione di questo video perché volevo prima proprio parlare fatto può fare quattro chiacchiere con noi questo canale sta crescendo in maniera veramente buonasera primo ciao marco quaglino ciao primo tommasi nastri a 5 1 7 questo canale youtube stavo dicendo sta crescendo a vista doppio a vista d'occhio siamo quasi a 8 mila iscritti non ho fatto tempo a girarmi che eravamo veramente in molto pochi mi fa piacere vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è apprezzato e quindi direi che bando le ciance di andare subito al nocciolo della questione come ogni lunedì sera farò questa parte introduttiva sarà una parte di spiegazione di quello che è il nuovo programma di prevenzione naturale delle patologie fungine ne parleremo cercheremo di capire le basi quali sono le tecniche avanzate come si fa l'applicazione quali tipi di prodotti usare e di dosaggi faccio subito una premessa intanto saluto paolo ciao paolo cavalcanti buonasera ben ritrovato faccio subito una premessa molto molto importante non è una serata di sponsorizzazione dei prodotti della botos ok sicuramente nel programma poi nel link che vi che posterò al termine di questa diretta quindi non andate via ci sono tutti i prodotti di best prato e quindi anche i prodotti di botos ma prima di arrivare alla declinazione dei prodotti che si possono utilizzare i prodotti della botos ma se volete utilizzare il fosfitto di potassio di un'altra azienda va benissimo ugualmente la cosa importante è avere bene chiaro il sistema di applicazione perché una volta che si è imparato il sistema da mettere in atto per la prevenzione ecco che a quel punto lì qualsiasi prodotto sia vi siete stufati del mio faccione non volete più acquistare i prodotti su best prato vi sta sulle balle la botos eccetera 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 zero problemi andate prendete andate trovare ovviamente dei produttori di qualità dei prodotti di qualità e per me va benissimo ugualmente ripeto qui facciamo fra virgolette insomma cultura del verde non ci interessa fondamentalmente avere i marchi qua siamo i migliori più bravi riflettiamo sui prodotti riflettiamo sull'applicazione dei prodotti e poi ragazzi questa bellezza della strategia naturale insomma per me ha un fascino che va al di là dell'aspetto commerciale oggi riuscire veramente a mettere in pratica la nostra passione che è una passione green una passione verde una passione per la natura utilizzando il più possibile senza essere integralisti senza voler fare la guerra a chi utilizza i prodotti chimici tra altre cose non è che siamo contrari io personalmente non è che sono contrario l'utilizzo di antifungini di tipo chimico penso però che sia molto più interessante molto più sfidante molto più bello molto più etico molto più sostenibile scegliere altre strade sono delle strade che hanno la stessa efficienza probabilmente no probabilmente la strada dell'utilizzo delle strategie naturali è una strada un po' impervia nella quale c'è bisogno di creare una storia nel tappeto erboso che si incammina in questa direzione parlavo giusto al my plant in garden alla fiera che si è avuta a febbraio mi pare in cui ho incontrato ho fatto quattro chiacchiere col dottor riccardo dal fiume il mio professore uno tra i miei professori insomma che mi hanno insegnato le materie con i quali appunto mi diceva come sta riscontrando che i tappeti erbosi hanno bisogno di essere instradati nella prevenzione nella cura naturale per molto tempo prima di creare un sistema che veramente funziona quindi non è possibile pensare di applicare il piano che vedrete tra un po' e pensare che da qui a tre mesi non abbiamo più le malattie fungine no non funziona così la prevenzione se questo vi state aspettando questa sera chiudete la diretta facebook e andate su netflix o su altri altre cose fatemi salutare anche rossano giovanni maria patanè e alessandro pighini stefano ci per la che mi fa già una bella domanda e claudio lionello che saluta me ma saluta tutti quanti quindi adesso bando alle ciance la metodologia di presentazione e la solita ho preparato delle slide e direi quindi di andare subito a vederle queste nostre slide ecco la qui io rimango un po' nel poi tornerò col mio faccione in diretta quando ci sono a pieno schermo quando ci sono quando c'è motivo programma naturale di prevenzione malattie fungine del prato allora prima cosa che ci tengo tantissimo è guardate alla vostra destra o alla vostra sinistra adesso no alla vostra destra versione 1.0 perché questa è la prima versione e io credo che nel corso dei prossimi mesi proprio con l'applicazione di questi nuovi prodotti di queste nuove tecniche probabilmente ci sarà la versione 1.1 1.5 questo programma questa presentazione di programma naturale e non è frutto è frutto di un lavoro di team sul quale ci stiamo confrontando sul quale stanno hanno lavorato sull'utilizzo dei prodotti agronomi con molta molta più esperienza del sottoscritto quindi insomma è un bel team che sta lavorando su queste cose per cui è un processo che ha inizio per noi oggi lo reputo oggi l'anno zero non perché nell'anno scorso due anni fa tre anni fa non stessimo proponendo delle strategie di contrasto microbico naturale l'abbiamo fatto ma le armi che avevamo il famoso tricco il tricoderma le micorizze erano delle armi già buone ma non sufficienti oggi con l'arrivo di tutta una serie di prodotti che adesso di cui andiamo a parlare ovviamente il nostro il nostro piccolo fucile di contrasto alle malattie fungine non di altro tipo è diventata una mitragliatrice è diventato veramente un bazooka bene bando alle ciance andiamo al alla questione allora la prima slide che vediamo è questa ed è importante tanto quanto quello che verrà dopo e alcuni di voi già le sanno queste cose mio compito è assolutamente quello di ripeterne volete che il vostro prato sia libero dalle malattie fungine dovete sapere che il 50 per cento di questo risultato potrebbe solo dipendere dalle basi cioè dal mettere in pratica questi tre aspetti che vedete in questi bolli gialli in queste in questi cerchi gialli in queste forme ovvero nutrizione adeguata il controllo del feltro e l'irrigazione corretta dovete sapere che il 50 per cento delle patologie fungine arrivano e possono arrivare se si viene a sbagliare questi tre elementi se si fa una nutrizione non adeguata tra un attimo vediamo cosa vuol dire se non effettuiamo il controllo del feltro e se sbagliamo di irrigare sembra strano ma se noi mettiamo in atto anche il programma di best prato le tecniche avanzate che vedremo tra un attimo ma sbagliamo e non seguiamo non mettiamo in atto queste basi siamo da capo le patologie fungine al 90 per cento arrivano quindi vediamo nei rapidi da successione giusto un piccolo prologo iniziale cosa vuol dire nutrizione adeguata vuol dire fare almeno quattro concimazioni diversificate chi tra di voi ci segue sa che ogni stagione le sue esigenze la stagione primaverile l'azoto l'estate potassio l'inverno potassio il settembre di nuovo l'azoto fare concimazioni diversificate far non far mai mancare il nutrimento nostro prato e poi per quanto riguarda le patologie fungine c'è bisogno di stare molto attenti alle quantità di azoto che vengono utilizzate qua ho scritto azoto lento rilascio il concetto è seguiamo un piano un programma di concimazione annuale non eccediamo con l'azoto facciamo in modo che l'azoto arrivi al lento rilascio quello che è necessario per la pianta non di più perché le concimazioni troppo azotate le concimazioni con dei concimi che rilasciano azoto eccessivamente sono foriere di di aiuta aiutano lo sviluppo delle patologie fungine cosa vuol dire controllo del feltro l'abbiamo visto due o tre dirette fa non mi ricordo vuol dire che il feltro va sempre rimosso quanto supera i due tre quattro cinque millimetri di altezza perché il feltro perché il feltro è il luogo nel quale si sviluppano le patologie fungine o meglio è il luogo di incubazione migliore per le patologie fungine le patologie arrivano anche se non c'è feltro ma se c'è feltro arrivano in maniera estremamente più potente e come una sorta di piccolo incubatore di patologie fungine nel feltro c'è l'umidità abbiamo detto nel feltro c'è quella sostanza organica in decomposizione che poi fa è tanto ghiotta per le nostre patologie terzo elemento e qui guardate questo sarebbe il primo elemento chi tra di voi ci segue pian pianino sta imparando guardate che più del 50 per cento di alcune malattie arrivano semplicemente perché stiamo sbagliando irrigazione l'irrigazione quella estiva quella quando c'è bisogno deve essere abbondante sì certo bisogna dare molta acqua sì certo ma deve essere infrequente lo vedete scritto ovvero bisogna fare dei giorni di pausa bisogna dare il tempo al suolo di asciugarsi bene perché perché l'umidità rappresenta il letto ideale luogo ideale per lo sviluppo delle patologie fungine e proprio per questo motivo trovate scritto di bagnare solo ed esclusivamente alla mattina presto perché perché se noi bagniamo non alla mattina ovvero andiamo a bagnare ad esempio pomeriggio tardo pomeriggio alla sera cosa succede al nostro tappeto arboso che rimarrà umido dalle 6 di sera fino alle 10 di mattina 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sono 12 12 13 ore di completa umidità ok se poi magari la giornata successiva non c'è un bel sole che asciuga creiamo la situazione ideale per lo sviluppo delle patologie queste sono le tre basi in poi ci sarebbero delle altre cose ma rimaniamo focalizzati su questo cosa vuol dire vuol dire che se concimiamo bene che se togliamo sempre il feltro che se facciamo bene l'irrigazione non arrivano le malattie fungine no purtroppo ahimè no le patologie fungine fanno parte no della vita fanno parte della della natura della coltivazione che noi stiamo facendo noi stiamo coltivando le graminacee stiamo coltivando i fili d'erma stiamo coltivando la festucca stiamo coltivando per cui questa coltivazione che il nostro tappeto arboso rappresenta cioè ha dei pericoli anche quando è completamente sano anche quando il prato è stato nutrito bene le patologie fungine ahimè arrivano e arrivano e creano dei grandi dei potenziali grandi danni ci sono alcune patologie che tra di voi ha purtroppo subito le conseguenze del pitium ad esempio probabilmente la malattia in grado di devastare un prato e la parola giusta è devastare non sto facendo allarmismo più di quello che è dovuto il pitium in virulenza è capace in 48 ore di seccare ammazzare completamente la struttura vegetale è una patologia fungine di tipo fogliare anche radicale che va nel colletto nel collare della graminacea e festa finita se non ci accorgiamo immediatamente che la patologia è arrivata nemmeno propri con azoli e prodotti chimici riescono a fermarla quando il pitium è arrivato e ci siamo accorti non perché vediamo l'ingiallimento ormai è troppo tardi il pitium potremmo combatterlo chimicamente nel momento in cui ci accorgiamo di una lanugine bianca in un punticino alla mattina presto ecco lì c'è il fungo patogeno in atto ecco che lì abbiamo 24 ore di tempo 48 ore di tempo per mettere in atto i nostri trattamenti ma capite benissimo che non è che noi alla mattina ci mettiamo lì con la lente di ingrandimento a vedere la cosa una schiavitù pazzesca e dopo di che potremmo anche essere nelle condizioni di arrivare tardi quindi dal mio punto di vista questo è il motivo fondamentale per cui l'unico sistema che secondo me veramente funziona è il sistema della prevenzione guardate io bazzico leggo nei gruppi nei forum so che ci sono anche dei colleghi che storcono il naso con quello che dico io li rispetto rispetto tutti quanti dicono che non funzionano alcune alcuni prodotti naturali eccetera c'è polemica intorno alla cosa non lo so io io mi faccio guidare dall'esperienza dal confronto con tecnici che queste cose le fanno da 20 30 anni che hanno speso la loro vita da agronomi che seguono dei golf club certo dei golf club magari minori nei quali dovete sapere che lì ci sono veramente le condizioni di sviluppo della patologia fungine più difficili perché il golf club tiene l'erba a pochi millimetri di altezza perché ci sono tutta una serie di concimazioni continuative che vanno fatte sono situazioni molto stressanti io mi confronto con questo tipo di persone mi confronto con gli agronomi di alcune aziende che sviluppano dei prodotti ci sono degli studi o mi ricordo che l'anno scorso quando ho parlato di queste strategie c'era qualche d'uno qua nel proprio nelle dirette che polemizzava un po c'è i link c'è gli studi ci sono gli studi che definiscono americani che il fosfito di potassio ha una capacità di contrastare alcune tipologie di pt un pari ai trattamenti chimici dopo vi posterò anche perché proprio per questa sera in previsione di questa questa serata ho preparato anche dei documenti che coloro tra di voi che fossero interessati poi li possono trovare allora entriamo nel vivo ok abbiamo visto le basi ma quali sono queste nuove tecniche che andremo a mettere in atto ed eccole qua partiamo subito le tecniche avanzate del nuovo programma di prevenzione delle patologie fungine si basa su due concetti fino all'anno scorso c'era solo un concetto che era il concetto dell'antagonismo in arancione lo vedete da oggi in poi c'è tutta una serie di prodotti per affiancare all'antagonismo l'induzione di resistenza due parole per spiegare che cos'è l'antagonismo e che cos'è l'induzione alla resistenza scusate non avevo messo non avevo messo le slide ogni tanto mi sa che bene che torni in diretta ok vedo che sono arrivate altre persone ciao giuseppe ciao silvia ciao stefano ciao bevis ciao francesco simone già prima maurie fighters buonasera a te eccola qua la slide allora ciao aldo buonasera ciao aldo pisano allora antagonismo ne abbiamo imparato a conoscere l'anno scorso significa inserire il termine tecnico è inoculare ma non mi piace ma così inoculare inserire distribuire somministrare al tappeto erboso delle forme microbiche quindi vita che crea un antagonismo nei confronti delle patologie fungine nei confronti dei funghi dei microrganismi che creano le patologie fungine abbiamo imparato a conoscere come si mette in atto l'antagonismo nel corso di questi anni ciao roberto buonasera ben ritrovato roberto bisentino è il famoso molti di voi lo conoscono il famoso tricoderma e le famose micorezze sono tutti e anche il bacillus che non è un fungo non è un fungo micorizenico non è un tricoderma ma bensì è un batterio è un bacillo tutta questa famiglia di prodotti sono dei prodotti che lavorano in antagonismo con il fungo patogeno l'antagonismo può essere torniamo un attimino in diretta col mio faccione l'antagonismo può essere di due tipi da una parte l'antagonismo di spazio cosa vuol dire che questi microrganismi amici che si aggrappano alle strutture vegetali che iniziano a creare un lengame simbiotico nel quale prendono un po di elementi nutritivi ma veramente pochissima roba sono microrganismi e per contro vanno occupare ad esempio gli spazi delle strutture vegetali delle radici della pianta in sé per sé creando una sorta di barriera fisica perché laddove c'è un legame con fungo micorizzico con le micorizze la non c'è spazio per il fungo patogeno ad esempio di entrare l'antagonismo però in alcuni casi è anche attivo cioè ci sono del tricoderma che ha un'azione di tipo predatorio cioè va ad attaccare a creare nocività diretta a determinati patogeni questa strategia è una strategia di altissima efficienza è una strategia che ha la sua massima efficacia nel momento in cui riusciamo a garantire una popolazione adeguata di microrganismi amici che vanno a saturare gli spazi e vanno a creare una sorta anche di contrasto bioattivo contro le forme di vita patogene ok chiaro questo è tutto tutto il programma di contrasto delle patologie fungine fino ad oggi proposto anche da besprato si basava su questo e poco altro ok quindi diciamo che questa questa parte dell'antagonismo è una parte importantissima anzi è la parte non dico fondamentale ma sicuramente con una rilevanza significativa recentissimi studi ci hanno fatto un po cambiare idea relativamente alla quantità di somministrazione che va fatta di questi prodotti il tricoderma purtroppo ha una volatilità anche se non è il termine giusto elevata o meglio ha una capacità di creare una popolazione resistente all'interno della struttura vegetale da noi interessate bassa quindi vuol dire che va inoculata che va somministrata con una certa costanza bisogna che noi andiamo a garantire un livello di somministrazione adeguato per cui da questo punto di vista lo vedrete poi perché affronteremo da adesso dopo questa slide c'è mese per mese da marzo a novembre andremo a vedere come viene snocciolato e come lavora infine nell'ultima parte del video vedremo come si somministra ci sono due modalità con quali tipo di attrezzature e poi finalmente vi darò il link se così andrete a studiarvelo e a guardarvelo perché nei links ci sono anche tutti i dosaggi ci sono tutte tutti i prodotti ma andiamo avanti e affrontiamo quello che vedete quel quadrato rosso l'ho voluto un po più carico di quell'arancione perché rappresenta la novità la novità oggi si chiama induzione alla resistenza guardate bene sia l'antagonismo sia l'induzione alla resistenza sono temi che in agricoltura sono noti da mo cioè non è che fabio bestrato scopre l'uovo di colombo ok cioè scopo a fa lo scoop mondiale sono cose che sono ampiamente conosciute da decenni in agricoltura ma i produttori di prodotti si usate il gioco di parole per il tappeto arboso fino ad adesso fino a quest'anno fino all'anno scorso avevano ignorato e sapete perché avevano ignorato tutti questi temi tutti questi prodotti completamente naturali perché nell'antagonismo abbiamo parlato di funghi di microrganismi sono prodotti naturali cioè non c'è niente di nocivo sono concessi in agricoltura biologica non creano fitotossicità sono perfettamente compatibili se li mettete in bocca cioè insomma perché non è il massimo ma non è che creano delle problematicità ok da punto di vista di sostenibilità di ecologia eccetera però fino a l'anno scorso c'era una libertà assoluta di utilizzare il chimico nel tappeto arboso soprattutto dai giardinieri soprattutto da tutti e tutti ne utilizzava adesso c'è una forte c'è stata una forte limitazione secondo me è una bella cosa una forte limitazione di utilizzo dei prodotti fitosanitari per cui bisogna pensare le strati il piano b ma il piano b era presente da da sempre secondo me è stato tenuto lì semplicemente cioè chi produceva i prodotti non trovava ancora economicamente vantaggioso farlo perché nessuno li acquistava adesso che invece siamo costretti tra virgolette perché poi sul privato in realtà i prodotti chimici si possono ancora utilizzare non c'è non c'è assolutamente un divieto questo qua sono i paradossi della legge italiana della legge europea non lo so non chiedetemi perché ma io a me poco interessa da me troverete poche volte consigli sull'utilizzo di proprio iconazzolo o altri prodotti chimici rimaniamo sull'induzione della resistenza il fenomeno dell'induzione della resistenza è vastissimo nel senso che si stanno ancora studiando gli effetti sulle piante del somministrare a loro semplicemente dei nutrimenti particolari degli elementi minerali nutritivi dati però magari in forma di ossidi oppure in forma di chelati cioè di sostanze che diventano solubili in acqua e assimilabili dalla pianta attraverso ad esempio l'assorbimento fogliare in questo caso e si stanno studiando anche l'interazione di questi prodotti in parole povere funziona così ad esempio un prodotto come il fosfito di potassio che è un induttore di resistenza potentissimo contro il pitium viene somministrato alla pianta per via fogliare e la pianta reagisce come che se fosse attaccata da un fungo patogeno e quindi crea delle barriere molto forti naturali però il fungo non c'è in quel caso lì quindi è come una preparazione un blef che viene fatto alla pianta che automaticamente inizia ad inspessire le sue pareti vegetali quindi il fungo farà molta più difficoltà ad aumentare le sue capacità di cicatrizzazione il fungo per entrare nella pianta deve deve entrare aumenta la pianta la sua capacità di eseguire la produzione di energia la fotosintesi e quindi aumenta le sue riserve di energia per contrastare ancora il patogeno e in alcuni casi produce delle vere e proprie sostanze tossiche al patogeno è una meraviglia è veramente una meraviglia infatti nel caso del fosfito di potassio specifico sono stati fatti degli studi in america ho il link qua dopo l'opposto nel quale si vede come il contrasto attraverso una somministrazione costante di fosfito di potassio è paragonabile ad alcuni prodotti chimici per quanto riguarda il contrasto del pitium ok ovviamente stiamo parlando di prodotti che devono creare una risposta ok quindi cosa vuol dire questo non venitemi a dire fra due mesi e mezzo fabio c'è una macchia gialla nel mio prato secondo me pitium vi mandate la foto io vi dico sì pitium dai dai ok allora gli do il fosfito di potassio no non funziona così non serve a niente state buttando potrei dirvi sì sì va bene così poi lo acquistate magari lo acquistate sul vesprato e qua diventiamo ricchi no no ma non funziona così il fosfito di potassio crea una risposta della pianta la quale risposta contrasta la patologia fungina questo processo è un processo da mettere in atto chiaramente prima il fosfito di potassio l'avevamo già inserito l'anno scorso nel nostro programma di concimazione ovviamente fa parte del nuovo programma di prevenzione delle patologie fungine abbiamo voluto creare proprio una cosa a parte ma sull'induzione di resistenza oltre al fosfito di potassio ci sono molti altri elementi quest'anno nuovo ci sono ben tre o quattro prodotti dovremmo vederlo come quattro prodotti un prodotto lo vedremo tra un attimo a base di zinco scusate di rame e di ferro già il rame no vi ricorda è un antifungino utilizzato dai nostri nonni no nelle rose si utilizza c'è il zinco c'è il manganese c'è il maniesio c'è c'è il silicio ci sono cioè una serie di 6 7 elementi che se dati in un giusto accoppiamento cioè non è che si prendono tutti e si danno le piante perché alcuni tra di loro sono si contrastano quindi è bene nella somministrazione seguire una filosofia ed è proprio la filosofia di questo programma che adesso andiamo a vedere rapidamente mese per mese si giuseppe giusto è un termine che mi piace anche a me è una sorta di vaccino giuseppe angelo ha scritto vacciniamo il peto erboso possiamo vederla anche così nel senso che gli diamo un qualcosa che simula un attacco per cui la pianta si fortifica ok esso sono delle bellissime dei benissimi sistemi di risposta adesso andiamo andiamo avanti abbastanza velocemente perché poi vorrei anche venire a rispondere a tutte le vostre domande allora e guardiamo marzo marzo è passato è appena concluso possiamo farlo è un trattamento che possiamo fare anche inizio aprile visto anche che la primavera vera sta iniziando in questi giorni in questo caso vedete che non è previsto nulla da un punto di vista dell'induzione alla resistenza questo per il semplice fatto che la pianta adesso a marzo e sta iniziando la sua ripresa vegetativa quindi il nostro compito adesso andare a fare un'induzione della resistenza è ancora presto dobbiamo prima creare le basi quindi andare a fare la concimazione eccetera eccetera che la si fa nel mese di marzo andare a dare i nutrimenti base ma ma per quanto riguarda invece la generazione di una popolazione che protegge antagonista le patologie fungine bisogna iniziare adesso non procrastiniamo non procrastinate mettetevi nell'ottica che se volete veramente insomma avere la massima possibile di efficacia i trattamenti vanno fatti già ve lo premetto una volta al mese la cosa buona la cosa positiva è che tutti i trattamenti perché ci sono più trattamenti da fare all'interno del mese li possiamo in alcuni casi fare tutti quanti assieme o addirittura fare tutti quanti nello stesso giorno in questo caso cosa prevede il programma marzo prevedere l'inoculo la somministrazione di tricoderma e di micorizze in questo caso il top è mescolare vedrete sempre che a questi prodotti viene mescolato un po di acidi umici che rappresenta un po il cibo di questi microorganismi ed anche un agente umettante quando si tratta di prodotti di somministrazione radicale questo caso il tricoderma le micorizze devono arrivare alle radici questa operazione è fantastica se seguita se è preceduta da una boccatura da una scarificazione da uno sfeltrimento da una rieggiatura dopo aver fatto questo tipo di operazioni andiamo a somministrare tricoderma e micorizze mescoliamo all'interno della pompa a spalla un prodotto liquido dell'acqua ci mettiamo dentro qualche goccia di agente umettante un po di acidi umici mescoliamo bene e andiamo a irrorare il prato dobbiamo sapere lo vedremo dopo alla fine che dopo questo tipo di operazioni radicali dobbiamo fare di tutto perché questo prodotto arrivi alle radici ma lo vediamo fra un attimo passiamo ad aprile passiamo velocemente ad aprile lo schema di somministrazione di antagonismo è identico fondamentalmente a quello di marzo l'operazione che qui andiamo a fare è identica ovviamente voi direte ogni mese farla beh diciamo quello che presento questa sera è il massimo la somministrazione di aprile potrebbe anche essere saltata quella arancione ok quindi l'antagonismo mentre ad aprile quello che dobbiamo fare è iniziare l'induzione alla resistenza questa prima induzione alla resistenza la si fa attraverso dei prodotti chelati che sono a base di ferro e di rame il rame sappiamo che ha una sua proprietà anche diretta battericida fungicida diretta il ferro è sotto forma chelata un induttore di resistenza e tra le altre cose all'effetto positivo di ridare colorazione al prato alcuni di voi già lo hanno utilizzato il ferro chelato nella somministrazione ad esempio di alcuni concimi in questo caso c'è un prodottino che mescola che ha proprio interno entrambi questi prodotti viene dato per via fogliare è un prodotto che deve arrivare alle foglie deve essere assorbito fra le foglie e dopo alla fine di queste slide vedrete vi spiegherò come somministrare passiamo a maggio schema arancione è uguale se abbiamo saltato aprile non saltiamo maggio se abbiamo fatto aprile abbiamo dato tricoderma e micorizze con l'agente umettante gli acidi umici possiamo saltare maggio nel senso che secondo me comunque fino a 50 giorni si è fatto bene con prodotto di qualità si è portato con una presenza di parti per milione significativa di tricoderma può essere fatto un inoculo e basta se avete passione di farlo se avete un giardino non troppo grande ecco che possiamo fare più applicazioni passiamo invece all'induzione di resistenza qui si cambia quindi prima avevamo visto il ferro e rame chelati ecco che in questo caso passiamo un'induzione di resistenza basata sugli ossidi ossido di silicio di calcio di ferro di magnesio sono dei prodotti che vengono assorbiti per via fogliare ed in questo caso tra le altre cose abbiamo anche un ulteriore effetto positivo che per quanto riguarda la predazione di cocciniglie di acari e di lepidotteri perché l'ossido di silicio funziona come un sgretolatore dell'esoscheletro per cui questi piccoli insetti poi vanno a farsi benedire come si dice questa è una soluzione la soluzione del piano b è quello di iniziare soprattutto se siamo ad esempio in regioni calde sicilia sardegna calaurea puglia e anche la campagna potrebbe essere che questa induzione di resistenza invece parta immediatamente col fosfito di potasio nulla ci vieta di unire questi due prodotti assieme possiamo farlo questa è la magia questa è la bellezza questa è la e i vantaggi di fare questo tipo di di sistema di prevenzione arriva giugno ragazzi da giugno in poi allarmi allarme rosso se maggio rappresenta i primi segnali di forti pericoli di malattie fungine con l'arrivo del caldo con l'arrivo delle alte temperature con l'arrivo delle humidità soprattutto nella pianura padana di giugno l'olio ad agosto ecco che i rischi delle patologie fungine aumentano ed ecco che qui si cambia completamente strategia di antagonismo il mio consiglio è sempre quello di maggio di non saltare il tricoderma proprio perché a giugno poi cambieremo prodotti perché cambiamo prodotti perché l'effetto l'efficacia del tricoderma dell'antagonismo basato sul tricoderma con le alte temperature e anche quello delle micorizze si riduce mentre il contrasto di antagonismo messo in atto dal bacillus subtilis non sono funghi sono batteri bacilli così in questo caso si esalta con le alte temperature e in grado di fare un'azione di antagonismo fino a 35 e più gradi quindi da giugno in poi quel prodotto che era il prodotto che noi utilizzavamo l'anno scorso anche giugno luglio agosto perché non c'era un valido sostituto da quest'anno tutte le case anche quelle più grosse anche quelle più piccole tutti i produttori per tappeto erboso hanno a disposizione dei prodotti puri di bacillus subtilis dall'altra parte ecco che entriamo nell'induzione di resistenza più potente si va di grandi bombe di fosfito di potassio innocuo costa pochissimo non è residuale fa un bene dell'anima ed assieme si fa una nuova applicazione di induttori di resistenza chelati a base di zinco e manganese che assieme al fosfito di potassio creano una risposta della pianta di induzione alla resistenza estremamente potente luglio abbiamo fatto abbiamo dato i chelati non serve ridarli hanno una durata un'efficacia una persistenza significativa lo schema di luglio è uguale allo schema di giugno per quanto riguarda il bacillus subtilis del fosfito di potassio e come vedete adesso passo ad agosto è identico a luglio questo è il cocktail potentissimo per quanto riguarda i mesi estivi che se affiancata alla giusta nutrizione alla rimozione del feltro fatto a primavera e a un irrigazione seguendo i consigli di fabio di besprato non so se lo conoscete andiamo a ridurre il rischio di patologie fungine veramente di percentuali elevatissime andiamo via veloci a vedere gli ultimi mesi non perché non siano perché siano poco importanti guardate che settembre ottobre novembre anche l'inverno rappresentano dei potenziali momenti di attacco delle patologie fungine soprattutto con le stati che si prolungano dopo finita l'estate le temperature di 30 gradi sono finite possiamo tornare allo schema antecedente quindi allo schema radicale dell'uso di tricoderma e micorizze con gli agenti umettanti e gli acidi umici qualche di uno tra di voi avrà già notato che che gli acidi umici con i bacillus non si non si utilizza gli agenti umettanti non si utilizzano fra un po vi spiego perché continuiamo ad utilizzare soprattutto nella prima parte di settembre l'induttore di residenza del fosfitto di potassio per spegnere le code eventualmente di pitium per spegnere la risortonia solani che si era rimasta dormiente nella fase terminale della primavera per poi ritornare a settembre teniamo a bada ottobre schema di antagonismo uguale a settembre per quanto riguarda l'antagonismo per quanto riguarda invece l'induzione di resistenza è lo stesso schema di maggio in questo caso torneremo ad utilizzare qua ovviamente iniziano a diventare delle delle applicazioni anche un attimino più semplici una solo un solo prodotto da utilizzare e per finire con lo schema di novembre in cui io personalmente consiglio comunque di fare un'applicazione di tricoderma che servirà a creare una popolazione in grado di occupare gli spazi relativi alla microdochium nivale il marciumerosa invernale che la malattia dell'inverno ecco questo è lo schema uno schema che faccio è da marzo a novembre adesso prima di arrivare le vostre domande che vedo ovviamente numerosissime questa sera vuol dire che l'argomento è particolarmente interessante e vediamo va beh qua una carrellata come si come si danno questi prodotti ecco qua normalissima pompa a mano in maniera un po più elaborata se avete il prato grande il mio consiglio è una bella pompa a spalla con una lancia dotata anche di una barra finale di ugelli questa qui è una barra penso che sia da 60 80 più ugelli con un'unica passata facciamo un metro andando verso destra sistemi ancora più performanti questa è una pompa carrellata elettrica per giunta ed in più se non sbaglio questo prodotto che dovreste trovare è della stocker ma dovreste trovare anche investrato da pochissimo perché l'ho specificatamente voluto io perché è un prodotto è una pompa intelligenti cioè è furba non costa tanto è elettrica è carrellata alla lancia se vogliamo fare dei trattamenti localizzati e viene data in dotazione con una barra da circa un metro con addirittura quattro ugelli quindi ci permette fondamentalmente in maniera molto semplice di passarla sul prato non lo rovina le ruote insomma non creano solchi credo che siano pneumatiche e elettrica per cui la batteria che dura quattro ore personalmente sarà la mia la mia pompa dopodiché invece alla destra vediamo le aderis che sono prodotti professionali se siete dei giardinieri guardate comunque queste dirette questo qua è un prodotto trovate lo trovate anche in vesprato distribuito dalla mugioli credo se volete però è un prodotto che costa per dire partendo da destra a sinistra parliamo di 1000 euro parliamo invece la pompa credo che sia sui 200 euro poco di più il la solo kit prato 425 vado memoria faremo sui 150 160 e quell'altra 50 euro e avete le pompe ovviamente era solo per fare un esempio ok vediamo invece una slide un po più interessante ed è l'ultima slide alcune accortezze per le applicazioni le vedete scritte qua ed infine i trattamenti fogliari vanno fatti su foglia asciutta trattamenti fogliari sono tutti quelli di indurazione alla resistenza più la somministrazione del bacillus subtilis questi sono fogliari quindi la foglia deve essere asciutta e non bisogna irrigare non deve arrivare la pioggia per almeno 24 ore potrebbero bastare anche meno ma io scrivo 24 ore stoppare l'impianto di irrigazione lasciare che la foglia assorba tutto quello che deve assorbire per quanto riguarda invece i trattamenti radicali sono tutti quelli che avete visto nelle slide che hanno il tricoderma hanno le micorizze e hanno l'water x che è un agente umettante vanno eseguite vanno successivamente va eseguita un'irrigazione coppiosa del prato di anche 2 5 litri di acqua al metro quadro perché dobbiamo fare in modo che questo prodotti questi prodotti arrivino alle radici quindi arrivano in profondità la migliore cosa sarebbe avere lo strumentino che non c'ho qua l'igrometro di vesprato che misura in profondità l'umidità e quindi capiamo quando il tricoderma con la successiva irrigazione è arrivato ad esempio a 15 centimetri di profondità signore e signori eccolo qua adesso comunque ve lo metterò è i dosaggi che ho scritto dosaggi in realtà quello http due punti barra barra bit line slash prevenzione trattino malattie trattino prato e links non scrivete una manina adesso che finisce la diretta vi metto i links nei commenti così sarà cliccabile lì all'interno troverete tutto quello che vi ho detto troverete mese per mese tutte le applicazioni da fare troverete mese per mese i prodotti ovviamente in quel caso lì in quel link lì trovate i prodotti che ci sono di vesprato trovate i prodotti di vesprato trovate i dosaggi quelli sono i dosaggi studiati attraverso i tecnici in questo caso della botos anche se non sono proprio tutti i prodotti della botos bu non mi ricordo mi pare di sì sono comunque studiati anche con i loro tecnici quindi sono dosaggi che sono sufficientemente certi certo questo programma probabilmente nei prossimi mesi verrà un po aggiustato perché anche noi anche i tecnici lo stanno elaborando e studiando per dargli una forma sempre migliore bene direi con questo è tutto allora facciamo così così non c'è nessuno di voi che si arrabbia vi metto i links per coloro i quali se lo trovo vediamo se lo trovo qua da oggi cambia tutto vi metto i links nei commenti e vengo assolutamente a rispondere alle vostre domande bene links non lo trovo mi tocca fare anche me bit lie bit lie management scusate solo un attimo così poi mi tolgo anche questo pensiero vediamo se lo trovo ve l'ho posto subito 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 se non lo trovo lo faccio dopo infatti non lo sto trovando allora facciamo così vediamo se ho un po più di fortuna facendo questa cosa qui nel frattempo che lo faccio magari se qualcuno lo digita e mi toglie questo lo va a trovare e lo digita no ho trovato datemi ancora un secondo dovevo preparare queste cose in realtà non le ho preparate qua il computer è un po lento eccolo qua allora pagina tutte le pagine programma di concimazione programma allora eccolo qua visualizza pafete copia e incolla signori e signori ladies and gentlemen siete pronti one two three vediamo se mi permette qua lo mettiamo inserito è andato eccolo qua non so se è linkabile se non è linkabile fate un copio e incolla così poi ce l'avete lì ovviamente lo metterò anche per coloro i quali vedranno questa diretta la vedranno dopo lo metto nella descrizione più tardi perché adesso voglio venire a rispondere alle vostre domande allora prendiamo dall'inizio mamma mia che tirata sono anche sudato allora francesco mi chiede buonasera fabio oggi ho trasseminato con royal blue rullato e concimato con bio start speriamo bene ma di cosa hai paura certo che andrà tutto bene sì davide fatica fatica royal blue ma vedrai che nei prossimi giorni spunta tutto benissimo bene manuel fammi sapere assolutamente tra l'altro anche noi qui stiamo preparando oggi ho fatto il serbo con l'acido pelargonico ho filmato tutto verranno fuori i video nei prossimi giorni così chi tra di voi è un po' dubbioso di questi prodotti naturali vedrà se funzionano o meno ciao fabio maurizio trasseminato due settimane fa ancora niente guarda è normalissimo con le temperature di notte che ci sono state la scorsa settimana che le trassemine sono bloccate ricordati maurizio moretti mantieni umido e vedrai che nei prossimi giorni spunta tutto nastri posso mandarti una foto del mio prato perché no le mandate tutti pensa ci sia un problema di malattie benissimo dr green chiocciolabestprato.com manda lì pure la foto stefano c ciao per la concimazione di starter si può mescolare le sementi nel carrello e buttare giù no oppure è meglio prima seminare e poi concimare prima seminare rullare il prato e poi distribuire il concime sopra giuseppe angelo domanda ho tagliato a sette centimetri il prato è corretto dare un mix di vigor liquid 200 millilitri in 15 litri d'acqua per centone più always più tricoderma si giuseppe è corretto anche il dosaggio l'always e in più non gli fa male ma c'è c'è l'idrolizzato proteico amminoacidi in più la differenza tra vigor liquid e always è che l'always è meno concentrato e ha anche degli idrolizzati proteici che sono molto importanti però devono essere assorbiti dalle foglie quindi praticamente siccome stai facendo il trattamento radicale perdi quella funzionalità lascia stare l'always lo utilizzerai più avanti solo per via fogliare ok non crea nessun problema anzi gli stai dando solo un po più di sostanza unica giuseppe angelo di nuovo quando posso concimare con autunché ancora vedo sul terreno alcuni micrograni di autunché ormai del 2018 come autunché se vuoi dare il potassio per l'estate tranquillo dai tempo al concime primaverile di fare il suo effetto quanti giorni di pausa Lorenzo mi chiede dipende Lorenzo sicuramente non meno di due ok quindi se tu ne fai due va bene ho conosciuto giardinieri tra l'altro se non ricordo male Pippo Pippo Liberti parlavo con Pippo Liberti un bravissimo giardiniere manutentore del verde un professionista che ha tirato il suo prato di casa fa sperimentazioni lo faremo anche qua noi fuori con addirittura cinque giorni di pausa e un'irrigazione e basta un prato di festuca mantenuto rigogliosissimo perfetto solo così ovviamente il giorno che andava a irrigare hai voglia dava una ventina di litri ok Manuel mi dice seminerò circa a metà aprile Royal Blue Plus benissimo quando conviene mettere le micorizze durante la preparazione del terreno così faremo qua noi quanto tempo posso iniziare a sfalciare col robot tagliaerba dopo il terzo taglio metti sulla macchina faremo le stesse cose guarda Manuel probabilmente se seguirai il video faremo le stesse cose buonasera a tutti Francesco Bongiovi Fabio tra seminato oggi inizio programma di bagnature poco un minuto a ciclo ma tre volte al giorno 7 12 17 va bene 7 12 17 va bene per quanto riguarda i minuti e per quanto riguarda anche le pause i primi giorni i primi due giorni controlla perché un giorno senza sole è diverso il terreno si asciuga lo scopo è quello di mantenere il terreno umido non dobbiamo irrigare il prato non dobbiamo irrigare il la terra dobbiamo mantenere il terreno umido ok bene ciao Simone col piano di concimazione del vesprato ho avuto una ripresa spettacolare mi fa piacere si pone Simone in questi giorni del prato Fabio di la verità anziché Vigor tricky always mi avete venduto Viagra no 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 grande Simone grande Mauri mi fa piacere comunque sai Simone cos'è vedrai che il tuo prato col tempo diventerà sempre più reattivo e auto protettivo questa è la filosofia naturale non sto dicendo tocca ferro tocca legno che non contrarai dei problemi ma arriveranno però se utilizzi questi sistemi saranno più limitati dopo di che ti arriva un attacco super virulento microbico un trattamento di emergenza possiamo farlo teniamoci magari lì un proprio in cronazola pronto effetto tra l'altro alcuni prodotti probabilmente li metterai un bel strato perché non è che siamo integralisti perché magari uno è andato via una settimana una settimana e quando ritorna non aveva sbagliato l'irrigazione eccetera però è completamente diverso questo approccio Mauri compra questo cioè non è che voglio vendere guarda non ci guadagniamo niente questo questo libro che ho scritto lo trovi in links in descrizione è praticamente un progetto imprenditoriale a ricarico a redditività zero cioè quello che costa ok anche cioè probabilmente inizieremo a guadagnarci alla terza ristampa cioè mai qui quindi all'interno Mauri trovi dall'ala zeta come si crea un prato la preparazione del terreno la semina la concimazione il taglio la protezione dalle malattie tutto 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 quindi costa poco costa 13 euro da essere in offerta su amazon se vuoi e lì andiamo avanti Simone ciao Fabio ci sono elementi tangibili e concreti che fanno capire che l'insediamento degli organismi antagonisti è avvenuto come posso essere sicuro che sia avvenuto che grande domanda Simone allora di petto e non solo di petto purtroppo anche riflettendo no non c'è questa perché dipende anche da dei fattori sono fattori di lavamento di quantità di strutture radicale di tipologia di terreno ok per cui però mi riprometto di ritornarci un po di provare a fare un po di indagini provare un po approfondire questa tua bellissima domanda Francesco ciao Fabio le micorizze possono essere disciolte nella cisterna che contiene l'acqua per irrigare il prato allora Francesco sì sono sotto forma di spore però rimangono sempre granulose sempre un problema dare le micorizze in forma liquida tra le altre cose devono arrivare nel sottosuolo quindi bisognerebbe spaccare un po' la superficie si può ovviamente se hai un ugello col filtrino si intase immediatamente domanda di Giuseppe il fighter che è il bacillus subtilis può essere somministrato solo quando le temperature sono alte luglio agosto oppure anche in primavera? no può essere somministrato anche in primavera in realtà non ha delle particolari condizioni diciamo che in primavera però il tricoderma ha un'efficacia di contrasto di antagonismo migliore ok quindi non possiamo bagnare vacciniamo il tappetto arboso certo dopo il taglio il prato andrebbe di norma bagnato allora Davide bagnare il prato significa dargli acqua nel caso in cui lui ne sia mancante quindi bagnare il prato è uno stimolo al prato a crescere quindi sì però se è già il terreno a umidità di risalita capillare ha piovuto la settimana precedente non fa non ha un'azione migliorativa Lorenzo ci può aggiungere degli acidi umici anche un concime fogliare assolutamente sì green up e ad esempio lo puoi mescolare tranquillamente a dell'always crei un piccolo cocktail che il prato ti ringrazierà dopo aver dato gli acidi umici ma anche i concimi fogliare bisogna assolutamente sospendere l'irrigazione sì il fosfito di potassio mi chiede Simone posso darlo da maggio a settembre ogni mese assieme ai 3 anni nel quadrato arancio assolutamente sì non abbiamo esagerato con il fosfito di potassio semplicemente per non tra l'altro mi ricordo un altro mio collega lui fa direttura un'applicazione di fosfito di potassio da aprile a fine settembre ogni 21 giorni così Davide Royal Blue Plus è una super semente ma in questo periodo fatica 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 sì 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 Davide hai centrato il difetto del Royal Blue difficile dove sei finito oh 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 qua mi è saltato tutto ecco qua è difficile da far germinare a bassa temperatura difficile da inrissemina complicato però una volta che riusciamo ad averlo ci ripaga degli sforzi le pompe Stoker sono qualità prezzo eccezionale ma era un articolo che nel nostro shop mancava lo so Francesco e mi sono mosso non sono l'unico che decide queste cose qua ho avuto modo di provarle ho avuto modo di provare adesso abbiamo questo prodottino arriva qua lo carichiamo in magazzino e probabilmente sarà il primo di tanti altri si funziona l'incabile ok grazie Stefano e se proprio concimo il terreno col Biostart tipo questa settimana e poi fra due settimane faccio la semina no Stefano il Biostart è pensato per essere dato il giorno stesso della concimazione dopo la rollatura stop si attiva con la prima irrigazione di mantenimento del coso quello è il suo lavoro Claudio Capuano ciao Claudio Fabio Domenico ha effettuato il primo taglio dopo la trassemina concimino azotato quando devo darlo? il prato è fitto a 90% allora il primo taglio dopo la trassemina il prato è fitto al 90% il Biostart dura 5 settimane 4 settimane quindi se sono passate tre attendi un'altra fai il secondo taglio il terzo taglio e poi vai di concimino azotato Fabio ho appena diserbato tra una settimana parto da zero posso seguire il programma standard e dare potassio per giugno? assolutamente sì ecco una bravo bravo Manuel grazie Manuel mi faccio un appunto guarda me lo scrivo addirittura mi faccio l'appunto qua perché poi io me le dimentico le cose che mi dite il programma di protezione no? che abbiamo visto questo qua è da fare a prato adulto a parte l'insediamento di tricoderma e di micorizze che comunque è una cosa che si può fare in altri casi fare un'induzione di resistenza su un prato che si sta ancora sviluppando è meglio dargli il tempo di sviluppo Giuseppe Fabio in merito all'Hallways ricordo che il signor Tuberga suggeriva l'uso di buone dosi dello stesso anche come fertilizzante e lo scopo radicale sì Giuseppe è vero adesso ho capito per cui tu mi hai detto quella cosa lì sì sì è vero always proprio perché sono acidi umici che sono un po' più diluiti per essere assorbiti dal punto di vista fogliare a parte della pianta se noi aumentiamo la concentrazione il dosaggio possiamo utilizzarlo come fosse vigor liquid questo ha detto Federico questo ti ha detto Federico questo ha detto Tuberga il dottor Tuberga Federico Tuberga e confermo quindi adesso forse ho capito la tua associazione di prima allora Stefano primo taglio rigorosamente raccolta stando alti sui 7-10 cm e solo poi maltin tenendo un 5-7 cm come taglio ogni settimana perfetto state diventando più bravi di me Giovanni Mario Patanè allora Fabio essendo che devo dare vigor liquid e trico assieme posso dare un po' di always assieme guardate è la stessa domanda di Giuseppe secondo me non serve ok ma non serve perché il vigor liquid ha la funzione per il trico dell'always dato ad alto dosaggio ciao Viti ciao Fabio ciao Viti quando taglio l'erba a 5 cm prestucco 1-2 giorni dopo il taglio vengono fuori delle strigliature color marrone cosa può essere? ma mi verrebbe da dire delle cose che sono sicuro che non sono perché ti conosco e sei un valido professionista mi verrebbe da dire il controllo dello sfalcio della lama del tagliaerba che non faccia uno strappo che non vada a slabrare magari in alcuni punti non hai controllato bene la lama magari il tagliaerba non fa più la giusta sospensione dell'erba oppure schiaccia oppure questo tipo di cose perché onestamente poi ovviamente il taglio è sempre un po' uno stress eviti dopo il taglio è una ferita il taglio non è che gli strappi ci sono sempre ciao Fabio con questo concludiamo siamo proprio all'ultima domanda 22.05 sono in ritardo ciao Fabio è possibile avere il bacillus subtilis in confezioni più piccole? Manuele purtroppo per ora no farò presente alla Botox questa cosa anche perché noi non è che possiamo aprire e fare le confezionamenti più piccoli perché c'è tutta una normativa a questa cosa mi rendo conto che effettivamente il Falcter costa però sai anche che lo prendi e nei dosaggi che viene dato che sono mi pare 50-60 millilitri sono dei dosaggi bassi adesso vado a memoria vorrei dire stupidaggini quindi vado a vederlo vediamo un attimo allora sì 50 millilitri capisci c'hai un litro ti dura anni per cui è un prodotto che se lo tieni lì chiuso in luogo fresco ti dura e sono in forma di spore per cui chiederò comunque chiederò allora ragazzi abbiamo terminato ce l'abbiamo fatta ce l'ho fatta spero che questo video spero che questa presentazione spero che questo aggiungo questo ulteriore sforzo che abbiamo fatto con questo programma sia visto anche per quello che è ovviamente non voglio creare aspettative infinite cioè mi rendo conto che magari puoi creare delle aspettative troppo forti di resistenza totale alla patologia fungine sia eccessivo perché poi quando arrivano poi uno ci rimane molto male questa è la vita ragazzi nella vita ci sono le gioie ci sono anche i dolori le patologie fungine sono delle bestie rare certo che mettendo in atto le basi più questi trattamenti avanzati riduciamo le virulenze veramente in maniera estremamente estremamente potente allora vi ricordo mercoledì newsletter dedicata probabilmente a questi temi faremo un recap dei temi della prevenzione delle malattie fungine nel prato sabato un'altra newsletter più importante che non vi voglio svelare altrimenti non vi iscrivete alla newsletter e con questo direi che è tutto ci vediamo presto nelle dirette nelle incursioni dal nostro magazzino che facciamo su facebook ricordatevi di iscrivervi ricordatevi di condividere questo video ci vediamo molto presto un buon lunedì sera a tutti quanti una buona continuazione da parte di Fabio e da parte di tutto lo staff di Best Prato ciao a tutti ciao